Musica Mi avanzava guarda me la coraggio Perché? Quello ci ha ferrata che non è bella ah no no no, mi pesano qui da l'elicottero ah si? io non vado fanno le strade, non vado a spazio che bello appunto bello, cara bello è bezzato forse più oh, un sasso, un altro si, abbiamo visto si, si ripriva si? si io sbaglio la presa se vede qui la presa si aspetta col garanzo arrivo il troppo sotto arrivo il troppo sotto dovevo venire in diretora ciao 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 io ecco tutto come funziona Sì 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 Voilà Sì Sì Si grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.